Due parole sulla trasformazione digitale del GIP. Sì, grazie per l'invito, è stato un onore per me essere anche nel Comitato Scientifico. Sì, abbiamo portato l'ultima trasformazione di GIP del brand in Italia, ovviamente con lo che è la Cuba di tutto il team internazionale. Siamo partiti nel 2020 in questo percorso di trasformazione del brand di attivismo, di presentazione dei valori del brand, prendendo una posizione sociale. È stato un percorso lungo, ma che ha generato tanti contenuti, tante interazioni, milioni di visualizzazioni e engagement rate molto importanti per il brand GIP, considerato la media automotive, e ci ha permesso di parlare dell'autenticità, della passione, della libertà e del movimento e dell'electric freedom di GIP in un modo diverso che ha polarizzato tutti i nostri clienti e allargato la nostra customer base. La sua esperienza di commerciale? Allora, io qua mi sento quasi in famiglia, possiamo dire. Dai, ormai sono un po' l'inizio in cui ho partecipato, sono orgoglioso di essere qui e quest'anno sono stato promotore anche di miei colleghi e di personaggi importanti che hanno portato il proprio contributo per allargare la famiglia, perché di famiglia si tratta. Perché un imprenditore, un general manager, un manager debba partecipare al Commerce Day? Prima di tutto, uno dei nostri valori è il networking. Qui si fa networking vero, si fa networking strategico al business, ma anche networking di nuove tecnologie e nuovi trending. Penso che partecipare a queste due giorni dia qualcosa in più a noi che ci permetta di imparare anche nuove tematiche, nuove industrie non proprio attinenti al lavoro quotidiano. Grazie Alessandro Grosso, grazie Jim Italia. Grazie a voi. Grazie a voi.